Amadeus è riconfermato per Sanremo 2024 e lui stesso ad annunciarlo in una delle storie Instagram. Amadeus sappiamo è sbarcato su questa piattaforma grazie a Chiara Ferragni che lo ha iscritto proprio dal palco del festival di Sanremo e in pochissimi giorni ha avuto milioni di followers e ora a lui si diletta con questo nuovo strumento social, simpatico, professionale e gradevole come sempre. Amadeus pensa già al nuovo Sanremo come lui stesso dice siamo solo ad un mese passato dall'ultimo Sanremo e io già penso al prossimo e dunque malgrado le polemiche che non sono di certo mancate all'ultimo festival soprattutto per la brutta performance di Blanco e per tutto ciò che è accaduto con Rosa Chemical gli ascolti sono stati stellari. Quindi sembrerebbe che proprio questo sia la cosa più importante che conti e dunque chi meglio di lui per il prossimo Sanremo? Buongiorno, oggi è martedì 7 marzo ed esattamente un mese fa quindi martedì 7 febbraio iniziava la 73esima edizione del festival di Sanremo quindi è passato esattamente un mese qualcuno già mi chiede ma tu stai già pensando alla prossima edizione? dopo un mese? Sì, ci sto già pensando, sto già pensando alla scenografia, sto pensando già ad alcuni nomi, ad alcuni cantanti sto pensando anche ad alcune idee che vorrei mettere in piedi ma solo pensando in questo momento e tra un po' comincerò a lavorarci anche perché avendo un contratto anche per il prossimo anno è giusto non perdere tempo chi ha tempo non aspetti tempo e quindi cominciamo a pensare alla 74esima edizione del festival di Sanremo un abbraccio e buona giornata a tutti grazie